Allora Alessandro, proprio buono il pranzo di oggi, quanto pesce abbiamo mangiato? Ah so, veramente, certo che lì al Ducca si mangia sempre troppo bene, c'è sempre una scelta paurosa di pesce, veramente. Verissimo, senti ma allora ci torniamo la prossima settimana, vero? Allora la prossima settimana sono già d'accordo con Gennaro che faccio un salto da lui, che così gli presento il solzmer che basa. Ok. E così magari insomma gli spiego un po' tutto quanto e con l'occasione quasi quasi io mi rifaccio lo spietino di gara. Un'altra mangiata, ottimo. Senti ma che cos'è questo social mail che basa? Ah chiaro, ma so, ma quante ne vuoi sapere oh? Eh se ne vuoi sapere di più bisogna che tu mi contatti allo 051 52 20 14 o mi mandi una mail a info-bologna.it e poi oh, cioè cos'è sta curiosità? È proprio femmina, eh? Ciao. 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 Grazie a tutti.